Ci sono 20 indagati per truffa aggravata, 16 sono impiegati nel comune di San Vincenzo la Costa, mentre 4 lavorano alle dipendenze dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. L'inchiesta, coordinata dal procuratore capo Mario Spagnolo insieme all'Aggiunto, Marisa Manzini ed Aipm, Domenico Fraccino e Donatella Donato, ha consentito di accertare l'assente ismo costante e sistematico dagli uffici e dalle persone coinvolte, sia attraverso l'installazione di microtelecamere posizionate nei locali alibiti alla timbratura, sia grazie alle attività di monitoraggio e pedinamento poste in essere dagli uomini della Guardia di Finanza agli ordini del colonnello Grazioli. In particolare, le fiamme gialle hanno documentato non soltanto l'allontanamento dai luoghi di lavoro senza giustificato motivo, vi aveva infatti anche chi timbrava il cartellino di colleghi che non transitavano affatto dagli uffici. Per i quattro dipendenti dell'azienda sanitaria, il GIP ha disposto la sospensione dall'esercizio delle funzioni per un periodo di 12 mesi. Si tratta di un medico e di tre infermieri del servizio cure domiciliari integrate con sede in Piazza Santa Teresa. Invece di prestare le proprie cure al domicilio di invalidi, ammalati gravi e terminali, uscivano per commissioni private o per starsene in compagnia di amici e parenti beatamente seduti al bar. Nei confronti di otto dei sedici indagati dipendenti del Comune di San Vincenzo la Costa è scattata invece la misura restrittiva dell'obbligo di firma. Salvatore Bruno per la Cineus 24. Salvatore Bruno per la Cineus 24.